Dal 28 settembre al 1 ottobre si è tenuta la decima edizione di Spoletour Festival, la ricca cremesse culturale che anche quest'anno si è presentata con numeri particolarmente importanti, 84 spazi espositivi, 153 eventi e performance ed oltre 30 concerti di musica gratuiti. Sono stati giorni intensi di arte e cultura internazionale per fare vivere a tutti, a distanza di 60 anni, il sogno di Giancarlo Menotti, non solo arte contemporanea ma anche musica e letteratura. Spoleto, ha affermato Luca Filipponi, presidente di Spoleto Art Festival, si conferma cittadella dell'arte come nel progetto ideale di Menotti, un filo che lega la manifestazione al sogno di Menotti che nel 1958 vide la luce con la prima edizione del Festival dei Due Mondi. Dieci edizioni più in anteprima, ha precisato il presidente Filipponi tracciando un bilancio, e Spoleto Art Festival continua la sua crescita, tanto da essere oggi uno degli appuntamenti internazionali nel mondo dell'arte contemporanea, e non solo, più seguiti e apprezzati da accademi, fondazioni, istituzioni dell'arte, in particolare americane e cinesi. La peculiarità del Festival, ha sottolineato, è la sperimentazione, novità e sperimentazione. Questo differenzia la nostra carmesse da una rassegna, e quest'anno è stato un meeting art, un'occasione di incontro fra tutti i soggetti protagonisti dell'arte contemporanea, dagli artisti ai galleristi ai collezionisti. La manifestazione di quest'anno, ha proseguito Filipponi, è stata anche un'occasione di riflessione sul rapporto tra artista e mercato, un rapporto complesso e talvolta controverso. Uno dei segreti del successo dello Spoleto Art Festival è dovuto al fatto che questa manifestazione mette al centro soprattutto gli artisti e ne o li utilizza per farsi pubblicità. Dalli special guest di questa edizione è Billy De Artis, importante designer neoyorchese, firmatario del manifesto Angelo Sagnelli, direttore artistico del Premier Spoleto Art Festival, per la categoria letteratura che si è svolta il 29 settembre alle ore 16 presso Palazzo Mauri. Una delle prerogative del Festival, che si è appena concluso, è di essere votato alla comunicazione. Oltre 2.000 articoli giornalistici usciti nel 2016 con spazi nelle maggiori tv cinesi e sudamericane. Sono state esposte oltre 5.000 opere d'arte contemporanea nelle oltre 50 location in tutta la città di Spoleto, con spazi che vanno da Piazza Duomo a Palazzo Mauri fino al comune di Spoleto. Importanti anche gli eventi collaterali come il premio letteratura diretto da Angelo Sagnelli, lo Spoleto Meeting Art diretto da Paola Biadetti, lo Spoleto Art Festival Musica diretto da Tania Di Giorgio, lo Spoleto Moda Art diretto da Floriana Rignanese. Il presidente Luca Filipponi e il direttore artistico Sandro Trotti sono soddisfatti. In soli otto anni abbiamo fatto un miracolo ed abbiamo realizzato almeno nell'arte quello che Giancarlo Menotti definiva una vera città teatro.